ragazzi seconda parte adesso mettiamo di nuovo il lucchetto voglio far notare che ci sta questo che ha forma strana proprio perchè questo è giusto questo è storto così di curvo perchè si mette così e poi si aggrappa con e si fa e si chiude adesso questa io mettere dove non perdere trovato dove metterlo qui lì lì manca l'ultima che io ho detto che faceva differenza no l'hanno trovato tutti così messa chissà di ci aspetta io trovo il cheer captain no lì il cheer captain apriamo da oggi tu sarai ragazzi è tutta squisciosa all'interno è tutta squisciosa e dentro esce il portachiavi di l'elchia captain che l'hanno insigillato guardate che carina allora voglio vedere la check list c'è lì il cheer captain noi l'abbiamo trovata come ciudolo poi cheer captain l'abbiamo trovata che mi piace appunto si trova quando l'ho trovata c'è lì il corrispondente adesso voglio mettere il cordino perchè adesso io vado a metterlo sulla zaino yeah e poi questo va benissimo con un bossellino guarda come tenere le chiavi tenere le chiavi cosi non le perdo e da qui allora ragazzi adesso faccio ripetere abbiamo questa con dentro il cendolo questa con le chiavi pure questa io ho trovato il splash quindi invece tutti gli altri youtuber l'hanno trovata quindi eh crystal queen adesivi e attenzione la sacca però non è sir se è blingling queen non c'è queen vabbè spero che questo video sia piaciuto mi raccomando questo video è terminato spero che vi sia piaciuto lasciate un commento un'idea iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuna e dico nessuna anche se lo provo spesso speriamo che vi faccia le notifiche nessuna nessun mio nuovo video ehm saluto luisa concetta ehm concetta gaia core che l'ho già salutata gaia core Anna Pia e Antonietta ehm che purtroppo ti mando tanti baci perché hai febbre spero che guarisci presto Antonietta aspetta ecco qui il nostro pasqualone il mio pasqualone e io vi salutiamo e ciao 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 ciao